Non c'è dubbio che lo sport sia l'epica dei giorni nostri. La narrazione dello sport ha davvero molto a che fare con quella che era l'epica della letteratura classica. I grandi campioni sono coloro la cui magnitudine è proporzionale alla capacità di farci sognare. Qui nel training camp Raccontare lo sport della scuola Holden tenteremo di entrare nel mondo dello storytelling sportivo da diversi punti di vista, affrontando il tema della narrazione sportiva nella sua forma orale, nella sua forma scritta, nella sua forma romanzata, in quella cinematografica, in quella teatrale. Cerchiamo persone che abbiano certamente la passione e la voglia, il piacere di raccontare il mondo dello sport, che possano essere incuriositi dall'ascoltare dei grandi maestri di questa forma di storytelling e che però abbiano anche un'idea molto definita e molto precisa di quello che vogliono fare loro. Noi lavoreremo con i nostri studenti, con coloro che decideranno di iscriversi al training camp Raccontare lo sport, su progetti che si tenterà di far diventare realtà, realtà da presentare a un panel di esperti, a case elettrici, a televisioni, a radio, a giornali, a quotidiani sportivi che possano trasformare, ripeto, un sogno in una realtà.